Beh, come prima cosa mi andrei a pesare stamattina, mi sono appena svegliato, sono le 9.15, devo mettere anche tutta carica quest'altro iPhone, devo ancora mettere Apple Watch, andiamoci a pesare un attimo, 75, quant'è che sono arrivato a 75? E uno, bene. Mi peso quasi tutti i giorni e stasera ce ne andiamo a ripesare dopo questa giornata di solo pasta, quindi questa challenge improponibile. Continuiamo a cucinare. Grazie. 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 Sprecati. Iniziamo questa 24 ore di solo pasta challenge, sono 681 grammi mi sembra, è uscito scritto prima nel video, non so se oggi ce la faccio, anche perché sono già le 9.59, ho fatto tardissimo, stamattina con tutto questo video dalle 7.30, e prima un boccone direi, buona challenge. Grazie. A presto! è dura un po' eh c'è da dire che è molto grande la ciotola quindi non sembra che finisce mai secondo me siamo più della metà ci spero la masticazione deve essere difficoltosa forse 300 grammi erano troppi non so se li finirò farò vedere tra poco perché ci proverò ma con calma perché forse ho sbagliato con le farfalle che hanno la parte centrale un po' dura quindi sono stanco di masticare già però è quasi finita eh vediamo se riesco spregati maniera bianca vediamo che questo primo pranzo questo primo piatto di pasta è andato è rimasto un po' però è starnuto non ce la faccio più non la butto però vedo se più tardi riesco a mangiarla prima di pranzo aperitivo la cosa dura è che non farò palestra oggi quindi non mi stancherò ci vediamo con il prossimo piatto di pasta caffettino ragazzi dopo la colazione con la pasta vado a studiare un po' penso di dover andare in bagno ma pesantemente e ci vediamo a pranzo con un nuovo piatto di pasta se sono vivo mannaggia la befana che mi ha portato tutta sta pasta stop 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 ragazzi spregati sono stato mi sono spregato subito non ce l'ho fatta e mi dispiace dirvelo ma ho abbandonato la challenge anche se poi a pranzo ho mangiato la pasta però verso le 12 e mezza mezzogiorno ero ucciso cioè mi sentivo proprio male forse l'uovo era troppo pesante e mi ha distrutto quindi ho deciso di terminare la challenge però ve la volevo far vedere lo stesso altrimenti oggi non avrei caricato nessun video quindi beccatevi sto ASMR mentre mangio e spero che in futuro riesca a fare cose un po' migliori forse esagerato perché l'idea era quella di ora non l'avete visto neanche la grega e tutto trovare un chilo di pasta nella calza e poi mangiarla durante tutta la giornata solo che non so perché ma a letto stamattina ho perso un sacco di tempo quindi mi sono alzato che erano le 9 e mezza ed era già tardi poi forse la pasta con l'uovo a prima mattina non è il massimo e non ce l'ho fatta non me ne sono sentita di continuare a deludervi anche se a pranzo l'ho mangiato e stasera sicuramente mangerò perché già ora ho fame però è inutile fare questa challenge che è già andata male in ogni caso comunque ho mangiato pasta tutta la giornata l'altra cosa che un po' mi influisce sempre è che a casa non sto solo quindi se devo mangiare da solo c'è sempre ma che mangi da solo qua e là e quindi mi faccio sempre trasportare quindi diciamo che queste challenge le faccio da solo nel pomeriggio seriamente oppure difficilmente le riesco a fare comunque se avete visto questo video siete stati veramente sprecati questo giorno cioè proprio oggi sprecatissimi i prossimi video sono già pronti e caricati quindi saranno sicuramente migliori grazie a tutti come sempre di supportarmi se volete fare delle non challenge casomai un po' più interessanti scrivetelo nei commenti che proviamo a farle casomai se mi date una mano pure voi top di gamma ragazzi grazie di aver lasciato il like di aver commentato di aver visto il video di esservi iscritti al canale ci vediamo al giorno di prossimo un nuovo video ciao